Murales e Graffiti del Centro Storico di Napoli sono un'opportunità da sfruttare opere di leale valore artistico. E' da questo presupposto che a cadenza settimanale, l'associazione 400ML promuove Napoli Paint Stories, Slit Art e Graffiti Tour, una passeggiata turistica con partenza da Largo San Giovanni Maggiore e Pignatelli, e che attraversa il Centro Storico Napoletano tra Murales, Stencil, Slogan, Postere e Graffiti, con tanto di guida alla storica dell'arte Federica Belmonte. Ascoltiamo. Il nostro intento non è quello di porci come professori, perché non è un tipo di arte che appunto nasce libera e rifiuta regole, quindi non saremo noi a darle. Ci fa solo piacere gettare un po' di luce e cercare di chiarire un po' la confusione che c'è anche sulle tecniche, perché magari spesso sentiamo parlare di stencil, poster, sticker art, ma non sappiamo effettivamente poi di che cosa stiamo parlando. Quindi ci fa piacere approfondire anche questo punto di vista. E ovviamente mettere in luce i nostri artisti, che possono essere Diego Miedo, Arp, Zolta, Ellis, CRL, e tanti altri fra napoletani e italiani e soprattutto grandi ospiti della nostra città stranieri come Banksy, Zilda, C215, Clettabram e tanti altri. L'iniziativa è promossa dall'assessorato ai giovani del Comune di Napoli. Ascoltiamo l'assessore Alessandra Clemente. Un modo per fare educazione e per fare esperienza. Ecco, sono soddisfatta. Un progetto dell'altissima professionalità e dalle competenze mette in gioco da 400 ml. Siamo qui perché vogliamo vedere con i nostri occhi e spiegare a tanti ragazzi e a tanti cittadini la differenza tra l'imbratto, quel gesto violento che deturpa il nostro centro storico, invece il graffito, il percorso dell'arte urbana e della street art. Partiamo da quello che è il centro storico forse anche più ferito d'Europa per i suoi imbratti, per quanto è rovinato, perché crediamo che diventerà, grazie al nostro impegno, e noi ce la mettiamo tutta. Grazie.